La ricerca di nuovi tipi di materie plastiche è stata coronata da pieno successo nell'Istituto di ricerche chimiche Guido Domegani di Novara. Ecco un nuovo tipo di resina trasparente, vero e proprio vetro infrangibile. Dopo alcune ore di speciale trattamento si ottiene una sostanza simile al vetro. Il prodotto è infrangibile ed ha lo stesso indice di rifrazione del vetro, perciò lo può sostituire in molte importanti applicazioni. A questa resina può essere data qualsiasi forma. Osservate queste lastrine, sono veramente infrangibili. Così...